E poi mi ha portato a cena in un bocadino. Mamma mia. Hai visto che ti dicevo? Guarda, è pieno! Pieno di ragazze! Parlaci, fermale, conoscile! Lele, guarda che io non ho problemi a parlare con le ragazze, ma... Il fatto è che non mi piace parlare alle ragazze come tu parli alle ragazze. Cioè? Credo che sia una questione di linguaggio, perché tu hai questo modo di parlare del sesso così esagerato che se dicessi le stesse cose in inglese, soprattutto da noi in America, se dicessi le stesse cose in inglese, credo che ti potrebbero anche arrestare. Charlie, le ragazze italiane sono diverse. Qui si sentono tutte delle principesse. E Valentina, lei più delle altre, capito?